C'è l'ex prefetta di Bari Antonella Bellomo, da oggi grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e poi il questore di Lucca, originario di Ruvo di Puglia, Dario Sallustio, da oggi commendatore. Loro sono alcuni dei 46 cittadini, civili e militari della provincia di Bari che dalle mani del prefetto Francesco Russo hanno ricevuto i diplomi per il conferimento dell'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una cerimonia ricca di soddisfazione per un traguardo che contribuisce a fare grande il territorio. È il premio di una vita, alcuni prendono un'onorificenza anche superiore dopo aver preso quella da cavaliere passano ad ufficiale perché significa che hanno perseverato nelle attività positive. Tutti si sono distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti e dell'economia ma anche in attività civili, filantropiche e umanitarie a dominare adesso l'emozione condivisa con familiari e amici. Io lo dedico soprattutto ai miei genitori che purtroppo non ci sono più e tutti i miei familiari ma soprattutto alla grande famiglia dell'Associazione Polizia di Stato che rappresento come sezione di monopoli. È un'onorificenza che come commendatore non è facile da avere perché si parte da cavalieri, poi si passa ufficiale, poi vari gradi fino ad arrivare al commendatore.